E' appena uscito Ultrasphere da SampleLogic. Amici sono Claude, un fantastico VST, un virtual instrumento, uno strumento per creare un sacco di suoni in stile cinematografico veramente top e andiamola a vedere in esclusiva. E' in effetti in esclusiva con SampleLogic che ha dato la possibilità a SOS4DJ, ha scelto SOS4DJ per il mercato italiano per andare a presentare questo nuovissimo Ultrasphere che è uno strumento definitivo per andare a creare paesaggi sonori cinematografici che ampliano i confini della produzione musicale. Ed è il primo strumento con quattro motori core fluidi e potenti con il primo della serie, quindi Nato e Ultrasphere, poi probabilmente ne verranno altri. Noi siamo orgogliosi di presentarvi e di farvi vedere questo strumento completamente indipendente da software di terze parti che ci dà la possibilità di controllare un'enorme collezione di oltre 1500 campioni in stile cinematografico molto espressivi ma tutti da personalizzare e scolpire come ognuno preferisce. E tutto questo in un unico strumento senza aver bisogno di aprire contact o altra roba. Questo è il sito ufficiale di SampleLogic Ultrasphere dove viene presentato questo nuovo virtual instrument che ha delle caratteristiche pazzesche. Quindi 1700 strumenti e preset contenuto campione di oltre 10 GB con 1520 file audio, motore di campionamento a quattro core con mixer automatico XY che vedremo, ultra band sound sculpture per un facile mixaggio del core, il dua harp sequencer e il chord players che fa la possibilità di suonare tutti i nostri accordi, drag and drop LFO, velocity e key modulator, forme LFO personalizzate per utente ottimizzati e modulatore di gate, send e master effetti gain, modalità multifiltri e inviluppi modulatori e velocity, sorgente dinamica basata su tag e browser preimpostato, controllo completamente personalizzato e integrato per MIDI CC. Che cos'è Ultrasphere? Ultrasphere è come detto uno strumento definitivo per andare a creare paesaggi sonori cinematografici che ci spingono ai confini della musica e del sound design, così da offrire una nuova piattaforma di strumenti virtuali per questa nuova generazione, dando il controllo di una vasta raccolta di suoni che sono oltre 1500 campioni cinematografici. Dotato delle più recenti tecnologie e moduli di modellazione del suono, Ultrasphere ci consente di modellare e modellare la nostra visione sonora con dettagli senza pari. Il motore Ultra è una piattaforma nuovissima, il cuore di Ultrasphere è il nuovo Ultra Engine e questo è il primo del motore audio di prossima generazione di Sample Logic, progettato per offrire potenza, sonora e flessibilità senza precedenti. Libero dalle catene delle piattaforme di terza parte è un plugin in sviluppo da anni con un'architettura innovativa e algoritmi avanzati di progettazione del suono, così puoi scolpire, manipolare e animare i tuoi suoni con precisione e dettagli veramente mozzafiato. Il primo passo di un'avventura emozionante è un potente strumento per trovare i tuoi suoni perfetti in un attimo con preset contrassegnati e opzioni di preferenza, persino andando a ricodificare qualsiasi preset della libreria, perché se pensi che è un preset suoni quasi azzeccato ma non del tutto, puoi caricare facilmente nuovi sorgenti e parametri mantenendo intatte le caratteristiche principali dei tuoi suoni. Creare il tuo suono, sono finiti i tempi dei campioni statici, per cui Ultrasphere consente di infondere movimenti al suono, modellandolo, automatizzando una vasta gamma di parametri. Prima di andarlo a vedere, sentire, soprattutto andiamo a vedere quanto costa, sono 299,99 dollari e in questo momento in offerta, vedete c'è l'offerta limitata per l'uscita, anziché 399,99. E allora andiamolo a sentire all'opera come gira e come suona questo Ultrasphere di Sample Logic che lo possiamo vedere esattamente qua. Eccoci qua, questi sono i quattro motori, Core 1, Core 2, Core 3, Core 4, dove abbiamo anche il XY, l'asse, per andare a modellare i suoni come vogliamo. Qua possiamo vedere tutti i vari preset che già su quello base, insomma, è decisamente notevole. Sentite, con l'asse XY muovendo come possiamo andare a modellare e a cambiare tutti i vari situazioni che possiamo anche andare a umanizzare. Oltre ai vari preset, se non vi piace qualcosa, volete modificarlo, potete cambiare direttamente dentro le varie sorgenti, vedete motore 1, motore 2, motore 3, motore 4, da dove possiamo scegliere se vogliamo, quale suono vogliamo di build up o altre situazioni, lo scegliamo, lo assegniamo al motore e poi vedete che qua cambia e avremo veramente una situazione molto molto particolare e personalizzata, come sto facendo io in questo caso. E qua abbiamo la possibilità di sentire solamente i vari motori in solo e in mute. Tutto questo, come detto, accompagnato da tantissimi preset che noi possiamo andare a ascoltare veramente di effetto cinematografico e possiamo scegliere per i vari generi o addirittura per i preferiti. Ma non finisce qua perché oltre all'XY, come vi abbiamo fatto vedere, c'è anche la possibilità di andare a modulare tutto in base ai vari LFO, LFO 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e cambiare tutte le key mode in questo caso, come possiamo vedere. Ma c'è anche il sequencer che ci va a far partire tutti gli arpeggi che vogliamo, in questo caso arpeggio 1, arpeggio 2, come vogliamo strutturarlo noi, in up, down, up, down, con tutto quello che vogliamo o addirittura per accordi, scegliendo la root note e poi andando a cambiare la settima, la nona, la quinta, il minore, minore settima e le varie ottave, meno uno, meno due, insomma tutto quello che potete fare e modellare da qui. E non finisci qui perché ci sono anche tutti gli effetti con in mandata o in master da dove potete scegliere stereo delay, chorus, phaser, flanger, autopanner, compressor, zen verb, classic reverb, tape delay, ping pong delay insomma ce ne sono veramente di ogni e idem per il discorso master effects quindi un sacco di suoni personalizzati e filtri da andare a modulare per creare il vostro suono cinematografico importante e veramente unico in questo caso. Per chi fa questo tipo di sonorità è veramente incredibile perché tutto a portata di mano e vedete si può cambiare in un attimo la situazione ed andarla a rimodulare come vogliamo noi. Per chiudere un po' di specifiche tecniche Ultrasphere dispone di 1700 strumenti, campioni e preset incluso una libreria campione di 10,5 gigabyte, 1520 campioni audio tutti i campioni vengono forniti a 44.000 kHz, 24 bit requisiti di sistema macOS 10.5 Maverix o versione successiva compatibile con M1, 4 gigabyte di ram, 8 gigabyte consigliato Windows 810 o versione successive con 4 gigabyte e 8 giga raccomandati servono 10,5 gigabyte di spazio libero per Ultrasphere per caricare tutti i campioni e l'unità audio componenti AU e VST3 64 bit Windows VST3 64 bit non è compatibile con Pro Tools prezzo come detto 299,99 ad oggi dollari anziché 399,99 fateci sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti sempre gradita corsi per DJ, corsi di produzione musicale potete fare tutto online con il sottoscritto contattandomi nella sezione contact compilando il form oppure tramite le nostre pagine social per chi sono indirizzati i corsi per DJ di produzione musicale per chi inizia da zero, per chi è già bravo e vuole migliorarsi e per chi vuole fare il salto definitivo di categoria verso il professionismo consulenze su tutti gli argomenti trattati da SOS4DJ sul canale comprese le tematiche del suonare e produrre in regola oltre a Facebook e Instagram c'è il nostro TikTok e anche la community Telegram se vuoi puoi iscriverti il canale YouTube ancora non ti sei iscritto? è arrivato il momento di farlo valuta anche l'abbonamento e crea la tua corsia preferenziale tantissimi video tutti in stile DJ e produzione musicale sicuramente avrai tutto ciò che ti interessa diviso anche in playlist in modo da cercare solamente tutto quello che stai cercando nello specifico puoi aiutarci tramite sostieni SOS4DJ qui o dove leggi il cuore qua sotto con scritto grazie attiva la campanella se vuoi essere informato su tutto quello che accade sul canale nuove recensioni, tutorial, spoiler e tutto in tempo reale c'è anche il nostro ufficio al merchandising con tutte le linee varie tra cui Anyway, Ultra Sphere da Sample Logic è veramente un bestione di strumento perché questo ti dà la possibilità di avere tantissimo tutto dentro uno e quindi non vai a scartabellare altre robe o campioni perché fai tutto con questo strumento fateci sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti da parte di SOS4DJ e Claude vi ringrazio per l'ascolto una bellissima giornata a tutti voi ricordandovi l'iscrizione al canale e che la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio Piri Piri Piri